La clinica Villa Maria di Rimini è in fase di rinnovamento. Previsto un ampliamento che prevederà quattro nuove sale operatorie di ultima generazione e l'acquisto di una serie di macchinari innovativi che comprenderanno l'utilizzo di tecnologie wireless. Nella mattinata di venerdì 13 maggio è stato presentato il funzionamento simulato dei nuovi impianti del reparto di radiologia. Dalla lastra si passa al digitale, con un impatto ambientale meno invasivo e con una notevole diminuzione di radiazioni per i pazienti. Sentiamo il dottor Gualtiero Antola, direttore generale della Villa Maria. Abbiamo iniziato un processo di investimento massiccio e di rinnovamento delle attrezzature soprattutto nella diagnostica perché è la branca dove abbiamo il maggior numero di quesiti da parte della cittadinanza. Tutto è iniziato con l'installazione della risonanza magnetica, è proseguita con una densitometria ossea, l'acquisizione di due ecografi d'alta definizione e adesso completiamo il tutto con un gruppo radiologico di ultimissima generazione, digitale e wireless, in grado di dare delle performance veramente notevoli, tipo un dimezzamento dei tempi di realizzazione dell'esame, un dimezzamento, che è una cosa molto importante, molto sentita dai pazienti, un dimezzamento delle radiazioni emesse dalla macchina per ottenere il quesito. Allo stesso tempo questo non vuol dire che l'immagine viene meno, anzi tramite questa digitalizzazione noi abbiamo anche una più alta definizione della stessa dell'immagine, quindi anche la possibilità tramite il sistema di Rixpax che stiamo ulteriormente acquisendo, che dovremo installare alla fine del mese, completare e chiudere il cerchio in modo che queste immagini potranno essere convogliate ovunque noi le vogliamo trasferire, quindi le posteremo anche in un futuro non tanto remoto, trasferire addirittura al medico di base che potrà visionare direttamente le immagini dal proprio computer, ma sicuramente all'interno, quindi convogliare le immagini alle sale operatorie nuove che stiamo costruendo o agli ambulatori dei medici che devono poi dare una refertazione immediata al paziente all'interno del reparto. Sicuramente ecco questa attività consentirà anche un discorso etico e ecologico perché praticamente stiamo iniziando un pensionamento della lastra con tutti gli effetti benefici dal punto di vista ecologico che ha tutto questo, cioè l'azzeramento dello smaltimento di tutte le sostanze che possono essere ovviamente dannose, voi capite le ripercussioni che si hanno a livello ambientale, quindi è chiaro che tutta una gestione dell'immagine in via digitale, informatica e su dischetti consente di fare questo apporto significativo all'ambiente. E anche meno radiazioni per i pazienti. E meno radiazioni ai pazienti perché al giorno d'oggi quando uno deve fare un intervento deve fare tutta una serie di esami radiologici e quindi è chiaro che sono continue e continue somministrazioni di raggi che in questa maniera vengono ovviamente dimezzati.